Iago Blink contro la tua ex squadra avete ceduto l'opportunità di salire in A2, peccato. Sì, purtroppo è andata così, secondo me non abbiamo giocato a nostro livello nella finale e loro hanno fatto una signora gara, sia gara 1 che gara 2, quindi è andata così purtroppo. È andata male ma ci riproverete il prossimo anno, possibilmente con un certo Iago Blink come opposto. Non so dirti ancora, vediamo cosa succede. C'è qualche possibilità? La possibilità c'è. E la voglia? La voglia sì, vediamo. Perché sei stato bene Pineto? Sì, mi sono trovato benissimo. Allora questo campionato è servito anche a questo, a far crescere un certo Mattia Catone. Mattia complimenti, hai fatto un salto assoluto di qualità. Penso che tu possa essere ampiamente soddisfatto di quello che hai fatto. Grazie mille Sergio, sì. Nonostante il risultato sono contento del percorso che ho fatto sia io singolarmente che la squadra ha fatto quest'anno. Ci rifaremo l'anno prossimo senza dubbio e ripeto, sono felice per il percorso. Ci rifaremo vuol dire che comprendi anche te stesso e vuol dire che sarai confermatissimo. Speriamo, speriamo. Non è ancora tutto, la trattativa non è ancora stata chiusa, vediamo di concludere al più presto.